A Pescara è boom di imprese, d'affare da traino e soprattutto l'area dei servizi. Lo certifica lo studio messo a punto da Aldo Ronci per la CNA Abruzzo, secondo cui nel 2015 nella provincia adriatica il numero totale di imprese ha segnato un saldo attivo di 406 unità. Un dato questo in netta controtendenza rispetto al resto della regione, con l'Aquila che flette di 150 unità, Chieti di 106 e Teramo di 17. La variazione positiva del pescarese si spiega soprattutto con l'esplosione, come detto, del comparto dei servizi. Tra gennaio e dicembre sono 538 le imprese in più, con numeri consistenti nel commercio più 157, nella ristorazione più 78 e nelle attività immobiliari più 40. Affare da contraltare all'impetuosa espansione dell'area dei servizi, dice la ricerca realizzata su dati infocamere, e soprattutto il comparto artigiano che a Pescara, sempre tra gennaio e dicembre dell'anno passato, flette di 208 unità. Di magra consolazione forse sapere che nel resto del territorio regionale sia andata perfino peggio, come mostrano le cifre di Chieti, meno 254 e Teramo, meno 247. Negli ultimi cinque anni in Abruzzo le imprese artigiane hanno comunque subito una flessione di 3817 unità, che hanno determinato una diminuzione di 10.300 occupati. Il loro decremento è stato del 2,73%, valore doppio rispetto a quello medio italiano dell'1,37%. La buona performance di Pescara e del suo territorio permette di occultare, ma solo in parte, il cattivo andamento regionale perché, come illustra lo studio, nel 2015 le iscrizioni in Abruzzo sono state 8.689 e le cessazioni 8.556, per cui le nuove imprese sono state solo 133.